Ciao lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi apriamo la casella numero 1 del nostro calendario dell'avvento virtuale e facciamo insieme il wrap up dei mesi di ottobre e novembre. È infatti arrivato il momento di ricapitolare le letture fatte nelle ultime settimane. Non sono state tantissime, non ho ancora raggiunto i miei livelli di lettura, i miei ritmi di lettura standard. Sto ancora un po' recuperando terreno dopo il blocco del lettore che ho attraversato nei mesi scorsi, però ho ricominciato ormai a leggere con regolarità e oggi vi voglio parlare dei 5 libri che ho letto appunto a ottobre e novembre. Vi avviso che mi sono fatta un po' trascinare dalle atmosfere della spooky season e quindi ho fatto diverse letture a tema. Io comincerei subito con il primo dei libri di cui vi voglio parlare oggi, vale a dire Il giro di vite di Harry James. Pubblicato nel 1898, Il giro di vite è un romanzo molto breve, anzi potremmo anche definirlo un racconto lungo, ed è considerato uno dei capisaldi del genere gotico. Il racconto comincia con un gruppo di amici che durante le vacanze di Natale si riuniscono davanti al fuoco per raccontarsi storie di paura, storie dell'orrore. Douglas, che è uno di questi amici, propone di raccontare una storia di cui è venuto a conoscenza leggendo un documento scritto da una donna che è recentemente scomparsa, che è morta recentemente, e che avrebbe raccontato in queste pagine alcuni eventi terrificanti, spaventosi, di cui sarebbe stata protagonista in giovane età quando lavorava come istitutrice in una grande dimora nobiliare. Quindi si tratterebbe di una storia vera. Ovviamente tutti sono curiosi di conoscere la storia e quindi Douglas comincia a leggere il manoscritto. E quindi comincia il racconto in prima persona di questa ragazza che racconta di come appunto quando era giovane è stata assunta come istitutrice di due bambini a Bly, una dimora nobiliare di proprietà di un uomo molto ricco, di un uomo molto facoltoso, che le chiede, diciamo, di occuparsi dell'educazione dei suoi due nipotini. Infatti questi erano rimasti orfani di entrambi i genitori. L'uomo però non vuole provvedere di persona alla loro educazione, alla loro crescita, diciamo che vuole completamente disinteressarsene e quindi affida l'educazione e l'istruzione di questi due bambini, Rose e Miles, alla istitutrice e alla governante. L'istitutrice, la protagonista del racconto, quindi si reca a Bly e fa la conoscenza di Miles e Rose. Miles è più grande, Rose è la sorellina più piccola. I due sono bambini molto intelligenti e brillanti e allo stesso tempo però sembrano estremamente educati, estremamente a modo, tant'è che vengono descritti come due angioletti. Non torna però il fatto che Miles sia stato espulso dal collegio. Infatti non appena l'istitutrice arriva a Bly riceve una lettera dal collegio in cui le viene comunicato che, insomma, Miles è stato espulso dal collegio e che non hanno intenzione di riammetterlo. Evidentemente ha combinato qualcosa di grave, qualcosa di grosso. Quindi questo comincia a destare sospetto, diciamo, nella protagonista, che non si capacita di come questo bambino possa essere stato espulso nonostante sia praticamente un angelo. Tanto più che il bambino non accenna mai, non fa mai parola di quello che potrebbe essere successo all'interno del collegio. E diciamo che in seguito la situazione peggiora perché l'istitutrice, la donna, comincia ad avere delle visioni, comincia a vedere i fantasmi, gli spiriti della vecchia istitutrice e del vecchio maggiordomo, che sarebbero morti in circostanze non troppo chiare, in circostanze misteriose. La donna quindi convinta che la casa appunto sia infestata dagli spiriti di quest'uomo e questa donna e che questi spiriti abbiano in qualche modo corrotto l'animo gentile di questi bambini. In effetti però la storia è raccontata in maniera ambigua, nel senso che il lettore ha il dubbio che questi spiriti non esistano davvero, ma che in realtà siano frutto della follia, dell'immaginazione della donna e che quindi in realtà sia lei ad essere stata corrotta da queste sue stesse visioni. E non si giunge mai ad una soluzione, non si risolve questo mistero. Fino alla fine il lettore si chiede quale delle due visioni, quale delle due versioni sia quella corretta. Ed è proprio l'ambiguità e il mistero che caratterizza tutto il racconto e il punto di forza di questo libro, che è molto moderno se pensiamo che è stato scritto nel 1898 e capiamo effettivamente perché è considerato diciamo una pietra migliare per quanto riguarda il genere gotico, il genere horror. Si tratta comunque di un romanzo ottocentesco, quindi non dovete aspettarvi scene truculente o una suspense come quella che caratterizza i romanzi o i film horror contemporanei. Però appunto se teniamo presente che questo libro è stato scritto alla fine dell'Ottocento risulta davvero geniale. Ebbe tra l'altro moltissimo successo e ne sono state tratte diverse trasposizioni cinematografiche. Anche perché in effetti il libro è molto filmico, nel senso che l'autore è molto abile nel descrivere le scene, nel descrivere i movimenti, le espressioni, le reazioni dei personaggi. E come vi dicevo, ben si adatta ad una rappresentazione sia teatrale che cinematografica. E in effetti le trasposizioni che sono state fatte di quest'opera sono davvero moltissime. Sono contenta di aver recuperato questo grande classico, tra l'altro lo avevo già in libreria e quindi ho anche, diciamo così, recuperato un libro che avevo intenzione di leggere da tempo, che era in TBR da tempo. Proseguiamo con il secondo libro, vale a dire La casa dei sette abbaini di Nataniel Hothorn. Vi dico già che io questo libro non ho finito di leggerlo perché l'ho abbandonato. Sono arrivata a circa metà, poco più di metà. Se seguite il canale da un po', sapete che da quando ho aperto il canale, e quindi ormai da tre anni a questa parte, più di tre anni, non penso di avervi mai raccontato di aver abbandonato un libro o comunque è successo davvero rarissime volte. Quindi se questa volta ho deciso di abbandonare vuol dire che la situazione era davvero grave. Allora, come mai ho scelto di leggere La casa dei sette abbaini? Perché dopo aver letto Il giro di vite di Henry James, così ho deciso di approfondire un po' il topos della casa stregata. Come vi dicevo, mi sono fatta un po' trascinare dall'atmosfera della spooky season e volevo un po' approfondire appunto il tema della casa stregata. Navigando un po' in rete mi sono imbattuta in questo titolo La casa dei sette abbaini che appunto riprende il topos della casa stregata ho deciso di leggerlo. Le premesse non erano affatto male. La storia affonda diciamo le sue radici nel 1600. Ci troviamo nel New England se non sbaglio e Matthew Maud, un umile agricoltore costruisce la sua casa appunto in questa campagna in mezzo alla campagna del New England nei pressi di una fonte di acqua buona. Succede però che il colonnello Pinchon un ricco puritano mette gli occhi sulla proprietà di Matthew Maud e vorrebbe comprare quel terreno. Ma Matthew Maud non cede non è intenzionato a vendere la sua proprietà. Quindi il colonnello Pinchon molto probabilmente fa in modo che l'uomo venga accusato di stregoneria l'uomo viene quindi processato e condannato a morte e in punto di morte Matthew Maud maledice la famiglia del colonnello Pinchon che in effetti dopo aver costruito la casa dei sette abbaini sul terreno che apparteneva a Matthew Maud muore per cause naturali ma in maniera molto improvvisa e quindi si pensa che in effetti la maledizione lanciata da Matthew Maud poco prima di morire abbia avuto effetto e abbia determinato la morte del colonnello Pinchon. Queste sono le premesse e questo è l'antefatto alla storia che poi il romanzo dovrebbe raccontare. Ci si sposta quindi in avanti di diversi decenni siamo nel 1800 e in primo piano vi è la figura di Eziba che è una diciamo discendente una degli ultimi discendenti della famiglia Pinchon abita nella casa dei sette abbaini ma la famiglia nel corso del tempo si è parecchio impoverita e di conseguenza la donna nonostante lo consideri un disonore è costretta ad aprire un negozietto nella casa dei sette abbaini per provare a racimolare un po' di denaro infatti non è più in grado di mantenersi e nonostante lei consideri l'apertura di un'attività commerciale un disonore per lei che comunque appartiene ad una famiglia nobile è costretta a farlo proprio per mantenersi. Attorno ad Eziba ruotano poi altri personaggi la nipote Phoebe anche lei è una Pinchon che si trasferisce lì perché è rimasta sola e quindi può dare una mano a Eziba in questo negozio il fratello di Eziba non mi ricordo il nome in questo momento che viene scarcerato dopo che per anni è stato in prigione accusato di omicidio e il giudice Pinchon un altro discendente della famiglia Pinchon con cui però i due fratelli Eziba e il fratello non mi ricordo come si chiama non vanno d'accordo perché penso da quanto ho capito ci fosse una contesa per quanto riguarda l'eredità o comunque vi era un documento un atto di proprietà che la famiglia aveva perso e vi è una contesa a proposito di quest'atto tra il giudice e i due fratelli ecco non mi spingo oltre anche perché sono arrivata qui sono arrivata a circa metà e poi non so come evolve la storia magari vado a vedermi su internet e come finisce mi comporto peggio dei miei alunni come mai ho deciso di abbandonare ho abbandonato ho deciso di interrompere la lettura perché arrivata a più di metà non ne potevo più dalla noia è una descrizione continua una digressione continua che va bene cioè io sapete ho letto I Miserabili l'anno scorso ho letto Notre Dame de Paris insomma non mi spaventano le letture lunghe con molte descrizioni con molte digressioni però se a pagina 200 di 400 tu mi stai ancora descrivendo le rughe sulla fronte di Epsiba forse c'è qualcosa che non va cioè dopo 200 pagine non si è smosso niente non è successo niente tutta un'unica descrizione peccato perché il libro era partito bene con appunto la storia della famiglia della famiglia Pynchon che sarebbe stata maledetta e quindi mi aspettavo che ad un certo punto poi l'elemento gotico facesse capolino e invece arrivata a più di metà della storia ancora non ho capito perché dovrebbe essere così spaventosa la casa dei sette abbaini di fatto non accade niente di che nella casa dei sette abbaini è semplicemente una casa vecchia con i muri scrostati i rampicanti sulle pareti e le porte che scricchialano basta niente di più quindi niente ragazzi mi annoiava troppo devo dire la verità e ho abbandonato anche perché direi che non è il caso di forzarsi semplicemente per orgoglio io tendo sempre a finire i libri che comincio anche quando non mi fanno impazzire per orgoglio appunto perché comunque non mi piace lasciare le cose in sospeso però davvero il livello di noia era tale che alla fine ho gettato la spugna se qualcuno di voi ha letto il romanzo mi dica che cosa ne pensa se vale la pena continuarlo magari si riprende sul finale potrei anche pensare di riprendere la lettura tanto non è successo niente fino a pagina 200 quindi non è che avrei difficoltà a riprendere la lettura esattamente da dove l'ho iniziata però secondo me secondo me è proprio un libro così quindi niente abbandonato su Goodreads ho dato una stellina ma ho motivato scrivendo appunto che la stellina è dovuto al fatto che io la lettura l'ho interrotta continuiamo a parlare di case stregate con Kill Creek di Scott Thomas questo invece è un romanzo horror vero e proprio pubblicato di recente nel 2019 Kill Creek è appunto il nome di una casa stregata si trova in Kansas e è stata costruita nel 1800 nella seconda metà del 1800 durante la guerra di secessione e proprio durante la guerra è stata diciamo teatro di un brutale omicidio poi è rimasta disabitata per anni è stata acquistata da due sorelle zitelle sole e dopo la morte di queste appunto la casa è di nuovo caduta in rovina di nuovo caduta in uno stato di abbandono la storia comincia quando un giovane ragazzo appassionato di letteratura horror contatta quattro scrittori di romanzi horror appunto molto famosi molto in vista e vorrebbe intervistarli lui infatti è diciamo proprietario di un sito internet e punto di riferimento per una community di persone appunto appassionate di letteratura horror vorrebbe intervistare questi quattro scrittori proprio a Kill Creek la notte del 31 ottobre quindi la notte di Halloween contatta quindi quattro scrittori sono quattro scrittori molto diversi che scrivono tutti i romanzi horror ma con delle caratteristiche molto diverse tra loro tutti e quattro all'inizio sono titubanti poi però accettano di concedere l'intervista anche perché potrebbe essere una grande occasione per farsi pubblicità per tutti e quattro quindi la notte del 31 ottobre si ritrovano a Kill Creek e l'intervista verrà trasmessa in diretta ovviamente si tratta di una trovata pubblicitaria nessuno crede davvero che la casa sia infestata ma sarà davvero così secondo voi ovviamente invece le cose si mettono male allora io non sono una grande appassionata di libri horror nel senso che ogni tanto ne leggo qualcuno ma non mi capita spessissimo di leggere letteratura horror quindi vi posso dire che Kill Creek è un un libro sicuramente di intrattenimento che si fa leggere con con grande piacere il mistero che sta dietro la casa di Kill Creek è credibile ci sta il finale vi darà soddisfazione quindi la storia in sé la trama è ben congegnata i personaggi sono comunque molto interessanti anche le relazioni tra i personaggi sono ben costruite e il ritmo è serrato soprattutto a partire da pagina 200 però l'inizio l'attacco è piuttosto lento la tensione comincia a salire a pagina 200 circa anche l'elemento orrorifico si fa si fa preponderante proprio a partire da lì e quindi all'inizio ci vuole un po' di pazienza però poi il ritmo appunto si fa incalzante la tensione crescente quindi poi si vola verso il finale la lettura diventa davvero avvincente quindi sicuramente è un ottimo libro di intrattenimento certo non è molto originale nel senso che anch'io che non sono un'assidua frequentatrice del genere horror non ci ho trovato niente di particolarmente nuovo all'interno di questo romanzo sono presenti tutti diciamo gli elementi caratteristici di una di una casa stregata e diciamo che accade più o meno quello che ci si aspetta quello che ci si aspetta che accada ecco quindi romanzo di intrattenimento piacevole avvincente anche se non particolarmente originale ho dato per intenderci tre stelline su cinque ma immagino che un lettore appassionato di romanzi horror possa anche trovarlo banale scontato però a me è piaciuto devo dire che l'ho letto con piacere chiudiamo questa serie dedicata al brivido con il manoscritto di Frank Thillier libro che avevo inserito nella lista dei 30 libri per la sfida dello scaffale strabordante e che sono molto contenta di aver recuperato anzi mi chiedo perché io non l'abbia letto prima perché abbia aspettato così tanto a leggere il manoscritto allora il manoscritto innanzitutto è strutturato come un racconto a scatole cinesi nel senso che il manoscritto è il titolo ovviamente del romanzo di Frank Thillier che teniamo tra le mani ma il romanzo si apre con una introduzione in cui il narratore ci racconta di essere il figlio di un famosissimo scrittore di romanzi thriller che però ha lasciato incompiuto il suo ultimo romanzo e questo si intitola proprio il manoscritto quindi il figlio di questo scrittore ha riportato qui l'opera del padre e poi dichiara di averla conclusa lui quindi le ultime pagine non sono originali diciamo ma la conclusione appunto stata scritta a posteriori dal figlio che ha deciso di pubblicare il romanzo del padre di concluderlo questo romanzo questo famigerato romanzo incompiuto si intitola il manoscritto ma non solo all'interno di questo racconto la protagonista una dei protagonisti è un'autrice a sua volta di racconti horror e ha scritto un romanzo che si intitola il manoscritto quindi come vedete abbiamo un racconto nel racconto nel racconto capiamo quindi fin da subito fin dalle primissime pagine che questo sarà un romanzo enigma un enigma che il lettore dovrà risolvere come vi dicevo la protagonista del manoscritto è leanne morgan una scrittrice di romanzi thriller di romanzi gialli che ha perso quattro anni prima dell'inizio del racconto la figlia la figlia è scomparsa nel nulla probabilmente è stata rapita e uccisa da un serial killer che poi è stato successivamente arrestato dalla polizia quindi il caso di questo rapimento è stato archiviato come caso di omicidio in realtà però il serial killer non ha mai rivelato dove si trovi il corpo della figlia e quindi Lian e il padre non riescono a darsi pace perché di fatto non hanno ancora scoperto effettivamente che cosa è successo alla loro figlia che cosa è successo alla ragazza tra l'altro la coppia Lian e il marito si sono separati dopo il rapimento della figlia Lian ha lasciato la casa in cui i tre vivevano mentre il marito è rimasto nella casa in cui la famiglia abitava prima del rapimento della figlia ed è una casa che si affaccia sul mare che si trova sulla costa settentrionale della Francia e la moglie ha deciso appunto di Lian ha deciso di allontanarsi dalla casa perché questa le ricordava costantemente la perdita della figlia mentre il marito ha deciso di rimanere e di proseguire autonomamente le indagini sulla scomparsa della figlia finché un giorno viene colpito alla testa viene quindi ferito viene attaccato alle spalle colpito alla testa perde la memoria e a questo punto Lian è costretta a tornare a casa e deve cercare di capire come mai il marito sia stato aggredito molto probabilmente ha scoperto qualcosa riguardo alla figlia rapita parallelamente si sviluppa un'altra diciamo trama perché mentre a Lian accade questo quindi mentre l'ex marito viene aggredito e quindi appunto Lian deve capire cosa gli è successo nel frattempo nel bagagliaio di un'automobile rubata viene trovato il corpo di una ragazza è una ragazza sfregiata senza volto senza mani e potrebbe essere la ragazza scomparsa potrebbe essere la figlia di Lian del caso si occupa un poliziotto di nome Vic che ha una memoria prodigiosa e che grazie a questa dote riesce a cogliere dei particolari a mettere insieme una serie di indizi che gli permetteranno man mano di avvicinarsi alla soluzione del mistero quindi abbiamo queste due vicende che alla fine convergeranno è un romanzo davvero davvero avvincente se cercate una lettura che vi tenga incollati alle pagine che vi crei dipendenza il manoscritto è il libro che fa per voi io davvero non riuscivo a smettere di leggerlo tra l'altro l'autore ha dosato benissimo la diciamo il grado di difficoltà degli enigmi presenti all'interno del libro perché io ovviamente non avevo capito la soluzione però comunque le indagini nonostante richiedano una certa dose di concentrazione però si seguono bene i vari passaggi si colgono bene quindi ci sono molte informazioni molti dettagli molti indizi ma comunque il lettore è motivato a scervellarsi e a cercare di capire che cosa che cosa è successo io comunque non l'avevo capito va detto che però è un po' crudo nel senso che ci sono delle scene di violenza molto molto forte mi ha ricordato un po' come atmosfere la serie tv dexter è una serie che risale a un po' di anni fa però ecco me l'ha ricordata per certi versi tra l'altro io quella serie l'avevo iniziato visto la prima stagione poi basta perché mi dava un po' il volta stomaco però se avete amato la serie dexter dovete assolutamente recuperare il manoscritto tra l'altro ho scoperto che è il primo volume di una trilogia se avete letto gli altri due fatemi sapere se vale la pena e se sono all'altezza del primo ma io so già che quando mi capiterà li acquisterò perché quando sarò in crisi quando avrò voglia di una lettura veramente di evasione che mi aiuta a staccare completamente il cervello Frank Tillyer sarà il mio miglior amico chiudo il video di oggi con un libro che appartiene a un genere completamente diverso e sto parlando di Ogni mattina a Genin di Susan Abulawa con tutta probabilità non ho non ho pronunciato il nome della maniera giusta perdonatemi allora ho letto questo libro dopo che mi sono unita al gruppo di lettura di Teresa del canale Bibucalula e Miria di Miria di Book Hunter vi lascio i loro canali linkati qui sotto in infobox anche se sono sicura che già le conoscete perché sono due booktuber con cui ho collaborato altre volte per diversi progetti non sapevo neanche avessere un gruppo di lettura l'ho scoperto per caso su Instagram e ho saputo che per il mese di novembre avrebbero appunto letto ogni mattina a Genin e siccome questo titolo mi interessava soprattutto per la tematica affrontata ho deciso di unirmi al gruppo di lettura ho acquistato il libro e appunto l'ho letto assieme a loro l'autrice americana ma ha origini palestinesi e ha infatti ha infatti trascorso i suoi primi anni in un orfanotrofio a Gerusalemme si è poi trasferita negli Stati Uniti dove ha frequentato l'università e si è laureata in non so se in medicina o comunque in un ambito che ha a che fare con il settore medico è autrice di diversi saggi sul conflitto israelo-palestinese e anche di diversi romanzi questo ogni mattina a Genin è proprio il suo primo romanzo e affronta appunto il tema del conflitto arabo-israeliano questa storia attinge in parte alla biografia dell'autrice infatti ha per protagonista una donna israeliana di nome Amal che è nata nel campo profughi di Genin dopo che la sua famiglia è stata cacciata dalla sua terra dagli israeliani nel 1948 dopo la fine della seconda guerra mondiale Amal e la sua famiglia come potete immaginare subiscono una serie infinita di violenze e attraversano una serie infinita di perdite di dolori e ogni volta che la situazione sembra migliorare ogni volta che Amal sembra recuperare un po' di pace un po' di serenità il mondo le crolla di nuovo addosso succede sempre qualcosa che sconvolge la situazione e che apre una nuova ferita e attraverso la storia appunto di questa bambina poi ragazza poi donna matura si ripercorre tutta la storia del conflitto arabo-israeliano i protagonisti nonostante tutto quello che accade non recidono mai il forte legame che li lega alla loro terra e non smettono mai di coltivare il sogno di una Palestina libera Amal non è l'unica protagonista ma attorno a lei ruotano diversi personaggi nella prima parte del romanzo suo nonno i suoi genitori i suoi due fratelli le sue amiche del campo profughi quindi è un romanzo che si incentra sì sulla figura di Amal della protagonista ma che è costellato di moltissimi personaggi ciascuno con la sua storia ciascuno con il suo dolore si può dire quindi che il vero protagonista di questo romanzo sia il popolo palestinese che viene cacciato dalla sua terra i palestinesi vengono privati della loro terra delle loro case senza un perché soprattutto all'inizio del romanzo i protagonisti non si rendono neanche conto di quello che sta succedendo si vocifera che gli israeliani si sono stanziati nella loro terra e si vocifera appunto di gruppi armati che stanno attaccando i palestinesi ma i protagonisti non pensano che toccherà loro se non che poi vengono sradicati completamente dalla loro comunità d'origine vengono deportati praticamente in un campo profughi e per loro questa situazione è provvisoria per loro la vita nel campo profughi è sempre una situazione provvisoria perché sono convinte che un giorno torneranno a casa perché non è possibile che nessuno faccia niente per rostituirgli la loro terra e invece il lettore sa benissimo che purtroppo siamo tuttora lontani da una soluzione non mancano personaggi dello schieramento opposto quindi non mancano personaggi israeliani anzi l'autrice cerca di dare voce anche al desiderio del popolo israeliano di trovare una propria patria di trovare una propria casa soprattutto in seguito alle atrocità patite dal popolo israeliano dopo durante la seconda guerra mondiale e durante il dominio nazista sull'Europa però è chiaro che la prospettiva è quella del popolo palestinese è un romanzo che sicuramente vi consiglio di leggere per provare a comprendere il dramma appunto di questa di questa popolazione è un romanzo molto doloroso quindi preparate i fazzoletti perché sicuramente verserete qualche lacrima di fronte a tutto questo dolore non si può restare indifferenti dal punto di vista della scrittura va detto che ogni mattina Genin non è un libro particolarmente raffinato presenta alcuni difetti la cosa che balza immediatamente all'occhio è che secondo me rende appunto questo romanzo poco raffinato poco rifinito è l'alternanza di diversi punti di vista nel senso che all'inizio il romanzo comincia con una narrazione in terza persona quindi c'è un narratore esterno poi la vicenda viene raccontata in prima persona da un certo momento in poi dalla stessa Amal poi di nuovo si torna al narratore esterno poi di nuovo Amal però senza una logica precisa senza che ci sia una ragione precisa cioè ci sono alcuni capitoli dove ci sono dei pezzettini raccontati con il narratore esterno e poi la restante parte del capitolo raccontata in prima persona da Amal ma in realtà anche i pezzettini che presentano il narratore esterno sono focalizzati su Amal la protagonista è sempre Amal quindi sembra che il romanzo non sia stato rifinito da questo punto di vista cioè l'ho trovato un modo di condurre la narrazione molto molto grossolano poi alcuni eventi anche alcuni passaggi anche alcuni personaggi magari avrebbero avuto bisogno di una maggiore approfondimento a volte la vicenda corre un po' troppo veloce si ha l'impressione che corra troppo veloce quindi un romanzo che dal punto di vista delle scelte stilistiche narrative non è particolarmente riuscito non è particolarmente raffinato al di là di tutto comunque è un romanzo che vi consiglio di leggere proprio in virtù delle tematiche che affronta quindi al di là di quelli che sono i difetti di forma sono contenta di aver letto questo libro racconta una bella storia e mi sento comunque di consigliarvelo anzi se avete voglia appunto di approfondire il tema visti anche i recenti avvenimenti vi consiglio assolutamente la lettura di questo libro bene queste sono state le mie letture dei mesi di ottobre novembre e voglio sapere quali sono state le vostre scrivetelo mi raccomando nei commenti e se avete anche voi letto i libri di cui vi ho parlato nel video ditemi che cosa ne pensate condividete la vostra opinione se siete arrivati fin qui lasciate un pollice in su io vi do appuntamento domani con il prossimo video ciao ciao